Questa è stata forse una delle migliori reazioni che la Roma ha mostrato in questa stagione perché si era messa veramente male la partita, anche un po' immeritatamente. Devo chiedere se adesso, al di là di quello che farà il Napoli, c'è un po' più di speranza, un po' più di convinzione che qualcosa possa cambiare nella classifica. Grazie. No, per noi, dopo che abbiamo vinto contro il Napoli, è partito poi un pensiero e rimarrà tale fino alle prossime due partite. Oggi abbiamo fatto vedere, perché c'era il rischio che la squadra interpretasse male questa matematica del terzo posto e che facesse le cose anche un po' più rilassate. Invece ha fatto vedere di essere aggrappata a questa possibilità che c'è, questa nuova possibilità che c'è e se la vuole giocare fino in fondo. Grande carattere, grande reazione, grande partita perché è stato un continuo. Sono stati bravi loro a passare in vantaggio, però poi noi abbiamo sempre fatto il nostro per tutta la lunghezza della gara. Siamo stati premiati da ultimo, però questo poteva avvenire anche prima, perché le occasioni ce le eravamo create. E ci sono state poi delle giocate veramente belle. È stato un bellissimo spettacolo, insomma, bella partita. Io penso che si siano divertiti tutti. Buonasera, mister. Prima ascoltando la tv, se non sbaglio, diceva che probabilmente ha sbagliato a far giocare poco Strotman. Ecco, io volevo sapere da lei che cosa l'ha visto davvero bene oggi? Mi sembra un impatto positivo, insomma, l'intensità, la voglia, l'applicazione. Questo ha un grande carattere, lui è calciatore dentro proprio, è un campione dentro, per cui bisognava solo avere un po' di attenzione e farlo giocare. Era già pronto anche prima, perché magari non facendogli fare tutta la partita, perché su questo è stata una cosa eccezionale, perché ha continuato per 95 minuti, sempre lo stesso ritmo. Per cui, se non l'ho fatto giocare prima e la condizione era questa, è segno che ho sbagliato qualcosa. Mister, buonasera. Gasperini prima ha detto, però se troviamo i contrasti al gioco del calcio, non è più il gioco del calcio. Lei dall'altra parte come lo vede? Parlava della punizione, parlava dell'intervento di De Rossi, dice, forse si può lasciare giocare di più, è diverso. Ce l'aveva più che altro con dei movi olisti, da quello che abbiamo capito, che commentavano a bocce ferme. Lei mi vuole far fare un commento sull'arbitro? Non so se la vista dal campo, magari la vista meglio di noi. Bisognerebbe sentissi come si è espresso lui, perché... Io dico che se viene a cercare dalla Roma la possibilità che abbia avuto qualche vantaggio, le dico che si è avuto un rigore dopo 21 partite, e mi sembra qualche cosa del genere nelle ultime 22. Per cui... Poi punizione a me sembra un... Gervasoni mi sembra un grande direttore di gara. Io quando l'ho avuto mi è sembrato sempre con grande personalità, anche quando ci ha dato contro, e non abbiamo... Ci ha dato contro nel senso, scusi, correggo, anche quando non abbiamo vinto la partita. Per cui Gervasoni mi sembra uno di quegli arbitri che fa il suo lavoro in maniera corretta. Poi preferisco sempre parlare della qualità dei miei calciatori, che è immensa, come ha fatto vedere oggi. Qualità immensa. Posso chiedere un'altra cosa, mister? È una vittoria giunta in rimonte, in un momento anche difficile dal punto di vista psicologico, anche mentale. Ecco, io volevo sapere da quando ha preso questa squadra, secondo lei, quanto è cresciuto dal punto di vista del carattere, della personalità? Ma... Mi sembra che... Che... In qualcosa... Siano migliorati. Abbiamo lavorato... Nella maniera corretta. Poi è chiaro che... Stasera si poteva concedere anche qualcosa di meno, qualche metro all'avversario, soprattutto come aggressività, sulla fase difensiva, però vuol dire proprio andare a cercare il pelo nell'uovo. Ecco, carattere, se si va a vedere le ultime partite, cioè... Siamo riusciti a portare a casa delle vittorie, dove se non hai quella qualità lì, non le porti a casa, come è successo. Per cui, la mia squadra da un punto di vista caratteriale è a posto. È chiaro che poi mette dentro qualche cosa di più se usi quelli che hanno quelle qualità lì. Se dentro c'è Strotto, ma stai tranquillo, è la squadra più carattere. Perché lui non lascia passare niente con superficialità. se le va a cercare le beghe per litigare sui palloni, per cui è così. Ma la squadra ha fatto vedere di avere qualità, carattere, giocate, corsa, un bello spettacolo. Mi sono divertito, le ringrazio a questi giocatori che purtroppo gli è stato detto poco dalle nostre parti quello che è stato questo pezzo di campionato, le partite che hanno fatto, quello che sono i risultati che hanno portato a casa. Ci siamo soffermati più, ci piace più guardare altre cose, ma questa è una grande squadra che ha fatto un grande girone di ritorno, prendendo decine di punti agli avversari, però non glielo dice nessuno. Se lei ci dà una mano, noi la ringraziamo. Arrivederci. Grazie, buonasera.